Siamo qui ad Amsterdam in questa settimana all'ISI, la più grande fiera del mondo dedicata all'audio video e integrazione di sistemi. Siamo qui per mostrarvi le nostre migliori tecnologie da proiettori da 50.000 ansi lumen a soluzioni dedicate al mondo del museo, istruzione e retail. Venite con noi a scoprire i nostri 5 best. Questo è il nostro nuovo concetto di aula scolastica. Ad uno schermo panoramico realizzato con due proiettori laser abbiamo collegato quattro postazioni interattive che consentono agli studenti di condividere il loro lavoro in tempo reale, ottimizzando così la collaborazione. Vorrei portarvi a fare una passeggiata lungo la nostra high-tech street dove presentiamo le ultime tecnologie interattive come questo elegante display in 4K touchscreen capacitivo o la nostra vetrina touch in grado di catturare l'attenzione anche quando il negozio è chiuso. Ed ecco il nostro nuovo obiettivo Ultra Short Draw con offset pari a zero compatibile con i nostri proiettori 3C BLP. L'innovativo design a forma DL consente di proiettare immagini estremamente nitidi da distanze molto ravvicinate. Con una quota di mercato dell'80% nella proiezione per gli eventi live, oggi in prima assoluta vi presentiamo il nuovo proiettore da 50.000 anzi lumen. Il nuovo proiettore RQ50 ha una risoluzione in 4K nativo in un corpo estremamente compatto. La suddivisione delle unità laser in rosso e in blu garantisce un livello superiore di riproduzione del colore, offrendo immagini nitide ed estremamente coinvolgenti. L'annuale showstopper di Panasonic è diventato un'istituzione all'ISC e quest'anno abbiamo realizzato un mapping in 3D su una superficie gonfiabile gigante, portando così il visitatore in un viaggio visivo nel mondo. Grazie per essere passati qui dal nostro stand ad Ise. Siamo certi che l'innovazione delle nostre tecnologie e l'affidabilità dei nostri prodotti vi daranno la libertà di potervi scrivere senza limiti e vi aiuteranno nelle vostre sfide di business quotidiane.